Su di giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica video rubrica che risponde alle vostre domande. E oggi mi chiedete, tra quelle che hai visto, qual è la tua lottatrice preferita? Interessante, ci ho pensato un po' e non riesco a proporvi un podio delle prime tre, ne metto due a pari merito in cima. Prima però qualche menzione d'onore. Innanzitutto a Mimia Ghiwara, che non è Mimia Iwara, quella che giocava a pallavolo nel cartone animato. Mimia Ghiwara era una delle combattenti più famose del cosiddetto catch, anni 80, ovvero il proresu, il wrestling giapponese, in onda sulle tv locali. Lei era la farfallina bianca ed era una delle preferite, se non la preferita in assoluto, del commentatore dell'epoca, Tony Fusar. E per noi ragazzi, vederla combattere era sempre un piacere, perché era anche una bella fanciulla, la sua carriera è stata abbastanza breve. Era anche una star musicale, cantava, una piccola idol, diciamo così. E tra le sue nemiche ce n'era un'altra, molto grossa, corpulenta, la Monster Ripper. E ce la ricordiamo tutti noi che l'abbiamo vista, perché era grande, grossa, cicciona, menava come una fabbra. E è arrivata anche in America dopo sotto altro nome. Se vi va di approfondire, vi ho dato alcuni piccoli semi per andare a scoprire atlete che sono un po' diverse dai soliti nomi che girano, soprattutto quelli legati ad WWE, quindi Lita, Trish Stratus, Victoria e compagnia. E ora passiamo al mio duplice primo posto. E la prima che cito fa proprio parte di quel quartetto di cui già vi ho elencato tre nomi. Trish, Lita, Victoria, soprattutto le prime due, sono spesso lodate e incensate per il loro apporto, dato la categoria femminile circa 10-15 anni fa. Però c'è una quarta atleta a chiudere il poker, che è Molly Holly, e secondo me era preparata, abile e pronta per il palcoscenico WWE, quanto le altre. Molly Holly è stata un po' sfavorita da due cose. Ah, era meno avvenente, chiaramente, di Trish, e meno strana esteticamente di Lita, che era un tipo, un tipo particolare, un tipo che piaceva. In più ha avuto il personaggio, a gimmick, ha dovuto interpretare il ruolo, o della cugina Holly un po' scemotta, innamorata di Spike Dudley, o della sidekick dell'Uragano, oppure della tizia un po' bruttina, un po' nonna, con i mutandoni grossi, poco gnocca, che ce l'aveva con le altre, perché ovviamente era meno fascinosa. E quindi, nel ricordo comune, Molly Holly viene spesso inserita in un ruolo di rincalzo, quando a mio avviso merita almeno, e dico almeno, di essere inserita in qualunque discorso, comprenda Trish e Lita. Questa è la mia prima scelta, insieme ad un'altra campionessa, Manami Toyota, questa magari vi dirà poco, lei era una lottatrice nipponica, iniziò anni 90, diciamo e collochiamola, non troppo grossa, famosa per le sue manovre oceaniche, lei aveva tutte queste tecniche che iniziavano con il nome Oceanic, l'oceano giapponese, insomma. Mi piaceva Manami Toyota perché? Perché in quei tempi un po' primitivi, nei quali era difficile ottenere materiale proveniente dall'estero, una delle prime VHS che comprai in giro per l'Europa, conteneva una compilation dei suoi migliori match. Era attorno al 94-95, super giù, e c'era dentro della roba clamorosa. Manami Toyota era avanti rispetto alle sue controparti americane, di una generazione e mezza, e rispetto a quelle giapponesi, di un mezzo passo. Era una ragazza piacevole da vedere, grintosa, tenace, molto tecnica, e quindi ricadeva proprio nella tipologia di combattente, indipendentemente dal sesso che mi faceva aderizzare le antenne. So che anche questo è un nome poco popolare per voi fan di oggi, e giusto appunto, magari, vi invito ad andare un po' alla ricerca, no? Di questi nomi che vi ho fatto, per ampliare la vostra cultura, la vostra conoscenza di una branchia del wrestling, che ora probabilmente ci sta davvero fornendo la sua vera rivoluzione. Magari abuso un po' troppo della parola vera, però abbiamo delle ragazze, Becky, Sasha, Charlotte, Bailey, che hanno veramente la vocazione, la passione, insomma ci vogliono stupire non solo per il loro corpo, il loro aspetto, ma anche per le loro capacità. E se aggiungiamo anche tutte quelle che si stanno allenando a NXT, al Performance Center, direi che i tempi da... Sono gnocca, applauditemi, ah, sono brava, applauditemi, ecco, sono ormai maturi, ecco, abbiamo cambiato proprio fase. Non che quelle prima fossero solo belle ragazze, però questo aspetto racconta un po' di meno, e anche per tale motivo abbiamo gente un po' particolare, no? Come Naya Jax, che è un'ex modella per taglia estralarge, o gente nipponica come Asuka, che finalmente ha un'occasione reale di mostrare le sue vere capacità davanti ad una platea come quella Worldwide della WWE. Ora se vi va, dita roventi qua sotto, potete scrivervi voi quali sono state le vostre lottatrici preferite, o quali sono, tanto non importa da quanto guardate il wrestling, l'importante è che la classifica sia la vostra. Poi, se già non l'avete fatto, se state vedendo il video su YouTube, qua sopra, iscrivetevi al canale, così mi aiutate a farlo crescere. Vi ringrazio anche oggi per l'ascolto e l'attenzione, ci vediamo presto, sempre qui, con Chiedi al Bardo. Ciao!